Parte la rivoluzione che interessa il mondo della scuola, costringe molti insegnanti calabresi a lasciare la regione. Al nostro microfono Pino Assalone, segretario della CGL Scuola, sentiamo. Parte questa rivoluzione nel mondo della scuola, ma molti docenti calabresi, quelli che accetteranno, saranno costretti a fare le valigie perché c'è una carenza, una vacanza di posti soprattutto al nord Italia. Allora, il sindacato, la posizione del sindacato? La nostra posizione è abbastanza chiara. Abbiamo contestato più volte queste procedure di immissione in ruolo che non garantiscono ovviamente la tranquillità del docente perché dopo tanti anni di servizio prestato nella propria provincia si verrà costretto a fare una emigrazione che pensavamo che fosse ormai lontana nei tempi. E quindi c'è questa grossa possibilità, infatti nella fase B soprattutto, che è quella più critica. molti docenti in provincia di Cosenza hanno dovuto prendere le cosiddette valigie e andare nei posti soprattutto del nord. Le opportunità ovviamente per questi che sono emigrati al nord rimane, c'è una possibilità che è quella di una mobilità straordinaria che si verificherà intorno a febbraio o marzo. Quindi in questa operazione potranno chiedere l'avvicinamento nella propria sede di appartenenza. Per cui sarà una delle probabilità per cui chi è andato al nord in questa fase ha la possibilità poi eventualmente di rientrare.